Ecco, funziona. Allora, presento io questo incontro, io sono Nicola Vittilio, buongiorno a tutti. Non mi conoscete, sono il lettore di italiano mediato dal Ministero degli Affari Esteri d'Italia, presso l'Università di San Paolo. Allora, ora prendo la parola per presentarvi i tre incontri organizzati nell'ambito della settimana della lingua italiana nel mondo. Quest'anno il titolo è La lingua italiana tra parola e immagine, graffiti, illustrazioni, fumetti. La manifestazione è giunta alla sua ventesima edizione. Come sapete, la settimana della lingua è considerato l'appuntamento più importante del Ministero degli Affari Esteri italiano per la diffusione della lingua e cultura italiana proprio a livello internazionale. Noi abbiamo tre incontri in questa fase. Questi tre incontri reggono però anche nell'ambito della manifestazione per la commemorazione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri. Manifestazioni che si sono aperte già a settembre di quest'anno e dureranno fino all'estate del 2021. Infatti, pochi giorni fa si è tenuto anche il concerto inaugurale alla presenza del Capo dello Stato nel cortile del Palazzo del Quirinale. C'è stato questo concerto con la direzione del maestro Riccardo Muti. Dicevo che presento i tre incontri che avremo questa settimana. L'incontro di oggi, quello appunto di 2019, si intitola L'arte figurativa per i piccoli, un approccio alla Divina Commedia dal Brasile e presenta alcuni esempi della cultura figurativa ispirati a Dante in Brasile. Poi avremo quello del 22 ottobre, giovedì, che avrà come invitato d'eccezione il professor Giulio Ferroni, che ci parlerà del suo libro appena pubblicato L'Italia di Dante, viaggio nel paese della commedia. Infine, venerdì 23 ottobre, l'incontro di venerdì 23 ottobre sarà una panoramica sugli studi danteschi in America Latina, dal titolo del nome di Dante, le commemorazioni dantesche del 2021. La tantistica in America Latina, Brasile, Argentina e Messico. L'ideazione e la realizzazione di tutti questi incontri sono dell'area di lingua e letteratura italiana del gruppo di ricerca tradizionale letteraria italiana del Dipartimento di Lettere Moderne dell'Università di San Paolo, a cura della professoressa Cecilia Casini e appunto costano nella pagina della Facoltà di Filosofia e Lettere Scienze Umane dell'Università. Se volete collegarvi www.fflch.usp.br. Naturalmente ringraziamo tutti i collaboratori di questa manifestazione. E a questo punto passo la parola alla professoressa Cecilia Casini. Grazie Nicola, benvenuti a tutti, quelli che sono presenti, quelli che ci sottiranno. Io alternerò un po' l'italiano con il portoghese perché so che ci sono anche alcuni, una parte del pubblico che ha interrotto il contenuto di cultura italiana ma che non domina esattamente la lingua. Ma cercherò di essere, di non rendere il testo, il resto molto breve, pesante per questo. Volterna un pochino con il portoghese, para, garantire che le persone che stanno accompagnando non domino l'italiano possano farlo esattamente. Ma buscando se breve e leve. Allora, come dicevamo, questo è il primo di tre incontri che l'area di lingua e letteratura italiana ha organizzato per la settimana della lingua. e sono tutti e tre diciamo rivolti a Dante considerando in vista delle commemorazioni del prossimo anno anticipando le commemorazioni per i 700 anni della morte del 2021. Ma questo di oggi in particolare riprende l'obiettivo di questo di oggi del primo anche per cominciare con una nota diciamo varia e divertente anche leggera, è quello di mettere in rilievo alcuni casi, mostrare, riaffermare diciamo una possibile fra le tante approcci all'opera di Dante anche per via figurativa e anche per esempio di arte figurativa non necessariamente quelli canonici e classici diciamo. Quindi, i tre incontri che abbiamo, sono i tre su di Dante, lembrando i 700 anni del anno che viene, ma questo è qui in particolare il primo, per anche tornare il comune di settimana, la settimana, la settimana più leve, più apropiato al momento che stiamo vivendo, mostra tra me scoglievo, diciamo, riaffermare una possibilità in trasmutas, l'abordaggio, l'opera di Dante, anche per via figurativa, non necessariamente per espressioni figurative canoniche, varie, variabili, dedicati al pubblico abito. E anche a San Paolo, a San Paolo c'è una tradizione presente nella propria città di questo, che vale la pena che sia conosciuta, già che non possiamo muoverci molto di casa. In San Paolo, anche, temi esempi di questo, importanti, ossia di arti figurativi da chi riguarda a Dante e che ora, per conto della pandemia, non possiamo irviare, personalmente. Quindi vale la pena offrire questa platea, che è la settimana della lingua, per mostrare questo. Io passo immediatamente, quindi, tre minuti, la mia presentazione, che, in realtà, è una, diciamo, combinando con una mia paese personale. La mia presentazione è verta su una passione personale, possiamo dire due passioni personali, cioè Dante e i manga giapponesi, i manga, come diciamo in italiano, e il legame con il Brasile è che, fra l'altro, in Brasile esiste una forte cultura di origine giapponese legata all'immigrazione. La letteratura giapponese, di origine giapponese, è molto presente in Brasile, con molti testi tradotti, neanche noi, fra i nostri colleghi. Credo ci siano dei colleghi, degli alunni presenti, sono molto attivi nel campo editoriale, pubblicano e traducono, dal giapponese in portoghese, molte opere, per cui alcune, per esempio, io le ho lette in portoghese e non in italiano, o, voglio dire, romanzi giapponesi, ovviamente, non so il giappone. Quindi io spero, questo ripeto, unisco due passioni, Dante e i manga, e sperando anche di e continuare il dialogo con i colleghi di giapponese all'ustre. Quindi, io sto unendo due passioni, Dante e i manga japonese, destacando il valore, la importanza della cultura giapponesa nel Brasile, specialmente in Sao Paolo, storicamente, già, devono a emigrazione del final del século XVIII, la emigrazione mitonica, e la presenza della literatura, della cultura giapponesa è molto forte, relevante in Sao Paolo, specialmente, e con una grande operazione, attuazione nel campo della pesquisa e della traduzione. Muiti libri giapponesi, per non parlare, non parlare con i manga, sono traduziti il giapponesi, il paro portugaisi e l'uslin e la lingua, non l'uslin italiano, per esempio. Agora, questo manga non esiste in portoghese, in realtà, però esiste in italiano. Io l'ho comprato in Italia a gennaio, l'ultima volta che sono andata in Italia, e di che cosa tratta? Come ho selezionato pochissime immagini, appunto, solo per dare una degustazione, diciamo, è La Divina Commedia è un personaggio importantissimo dei manga giapponesi che fino agli anni 70 tratta la figura di Dante anche in altri fumetti. Come vediamo, io guardo dal libro, ci sono varie immagini, scelte solo tre, Dante che si perde nella Sella Oscura, perché mi trovo, cioè la Divina Commedia, certo, poi perché mi trovo in un posto simile il titolo, perché dove mi trovo, mi sono forse allontanato dalla retta via adesso nel mezzo dell'importante viaggio della mia vita, da quanto mi trovo in questa Sella? Ah, Dante, proprio all'inizio che tutti facciamo della Divina Commedia, perché sto a chi, se il posto è scuro, mi desviei dal cammino, agora nel momento tal importante della mia vita, Leonardo, possiamo vedere la prossima immagine? Allora, io ho saltato alcune pagine, ovviamente, mentre Dante è pieno di sonno, stordito, sta smortoiando, scelga a tre sferas, ne, le quasi, le insergo a una collina per potersi salvare questa selva oscura, ma scelgono tre sferas, la nonza, il lupo, la nonza, il leone e la lupa, che sono i vizi capitali, che glielo vogliono impedire. Le scelgono tre sferas che chiedono, che la persona di sostanzialità è che chiedono impedire. Dante, anche se si interde, nuovamente, a te che ha una delle peggie aiute, apparece il suo aiutante, che è questo, cioè Virgilio. come, purtroppo, l'unica cosa, il libro non ci sono i numeri, e quindi devo, eccolo qui, vedete, Virgilio, che sono, mia madre era lombarda, scusate perché, mia madre era lombarda, della città di Mantova, lo fui, no, in realtà, però, si deve leggere, no, scusate, si deve leggere, forse c'è stata una pagina che... si deve leggere da qui e su, vabbè, quando nacqui, vabbè, nell'altra pagina è Dante Aquado, per la seo, per la sferas e Virgilio che scelga e Dante lo vede. Il suo nome lo vede e già ha cominciato a parlare. Poi, Virgilio dice, proprio ripetendola di una comoda, cioè, quello che dice Dante, quando nacque era il tempo dell'imperatore Giulio Cesare, dopodiché visse Roma sotto il regno del buon imperatore Augusto, oh, ma allora tu sei, tu sei, fui poeta, proprio in quel tempo maligno, in cui forti erano falsità e bugie, cantai le gesta del famoso generale Enea, figlio Branchise, che scappò da Troia e peregrinò, dopo la peregrinò, perdonate, dopo la caduta in camera del castello di Ilio, allora sei, Virgilio, ti prego, che tu sia un uomo fantasma, o persino un fantasma, aiutami, io non sono un uomo, bensì lo fui. Mia madre era lombarda della città di Mantua, quindi, i versi di Dante, in cui dice che Virgilio nasce a tevità di Mantua e che cantò a Enea, le gesti di Enea, per poi andare a Roma. Quindi questo, in realtà, segue molto, diciamo, di forma molto fiel, il testo di Dante. E lì, solo che Virgilio è il primo guia di Dante, è quasi tutto pubblicatorio, solo che in questa viaggio che Dante sta imprendendo, rappresenta la poesia, l'intelletto. L'intelletto, l'intelligenza, la poesia, non basta, la poesia, precisa di un amore. E lì apparece Beatrice, e quello che mi interessa è questa pagina, che rappresenta a Beatrice un incontro, eccolo qua, un incontro di Dante, che è il pequeno, criança, che incontra Beatrice, il primo incontro dell'escrianza, conforme Dante conta nella vita nuova, è il primo incontro di Dante e Beatrice bambini, nella vita nuova, secondo quello che dice lo stesso Dante, e allora nel 1274 un giovane Dante di nove anni conosce una stupenda giovinetta, il suo nome era Beatrice, una ragazza di soli pochi mesi più giovani di lui. Di fronte a quella giovinetta, il cuore di Dante viene toccato da un'emozione divina, un sentimento che egli conobbe per la prima volta, perché esso era il sentimento chiamato primo amore. è quando Dante con nove anni connesso una menina di poco meno ottima di essere Beatrice, bellissima, stupenda, e un coração di Dante ficca mescido, e le connesso un sentimento per la prima vez, o amore, è Aquele che ha trattato l'amore. e l'amore si unisce alla poesia, alla saggezza di Virgilio, perché Beatrice aiuta anche lei, Dante, in paradiso, per completare il suo viaggio, cioè a partire dalla fine del Pugliatore per tutto il paradiso. Ma quello che mi ha, e finisco, commosso molto, è questa immagine di Dante, Beatrice e Bambini, perché questo episodio è raramente presentato, per lo meno nella mia esperienza, nei libri, anche per bambini, credo, di letteratura italiana su Dante. E se il momento di incontro tra le due ragazze, non è molto, è raramente rappresentato. Dante, a gente lo immagina, è sempre adulto, si sudo, a gente non lo immagina, è criança, embora lui scrive di lui come criança una vita nuova. Ma noi non c'è, raramente ci immaginiamo, vediamo Dante rappresentato come un bambino, lui e Beatrice. Quando l'incontro tra lui e Beatrice, in genere, è quei famosi quadri dell'Ottocento, Dante adulto, Beatrice, Dante che porta la mano al petto, ma sono un uomo e una donna fatti. Quindi, volevo parlare con questo il taglio dell'immagine di Beatrice e di Dante Bambini, con cui questa immagine di Dante e Beatrice Crianze, e che, cara, diciamo, nella nostra iconografia, mi parece, per lo meno, con certezza non conosco tutto, anche per la Crianze, e, anche, risulta che il personaggio di Dante, connesso un pochino la storia di Gona Gai, si insere, di fare un tipo, un prototipo di eroio, di eroio, se possiamo chiamare di eroio, che non è un eroio total, è total, un eroio dividito tra un malo bel, tra due delle certezze, che ha molti flashbacks, nel passato, pare a giustificare, o per allendare, la memoria è molto importante, e ho fatto questa, prima, piccina, la mia lettura di questo, di questo, quindi, ricordandomi di questi personaggi, di Gona Gai, sempre divisi, fra, il bene e il male, mai sicuri di quello, divisi, fra il dubbio e le certezze, divisi, si fa il dovere, il dovere di essere qualcosa, e anche le proprie, come si dice, le proprie debolezze umane, questi ricordi, la memoria, il passato, l'epoca, di quando erano bambini, mi sarà interessante vedere come questo autore giapponese, mi sembra che abbia toccato, trattato, Dante, anche da questo punto di vista, che non è così comune in Italia, mi sembra. Grazie, io finisco qui e passo la parola a Regina, la mia collega, Regina Celia Silva, con l'amica di Unicam. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito Cecilia, ci sono stati dei problemi qui di connessione, ma ora spero che sia tutto risolto. Dunque, io presenterò l'inferno di Topolino, che è questa bellissima edizione, ci penso io a fare la presentazione dell'immagine, va bene Leonardo, ti ringrazio della disponibilità, proverò a fare io stessa. innanzitutto vorrei dire due parole sugli autori, cioè, sullo sceneggiatore, Vignetti il disegnatore, perché sembra che sia, Dante è già abbastanza conosciuto, fare un piccolo omaggio agli autori di questa edizione, pare sia un'opportunità interessante di conoscere questi due vignetisti. Quindi, due parole su di loro e poi vi presento qualche passaggio di questa avventura e vi propongo di leggere insieme e magari sottolineare qualche punto interessante. Va bene? Grazie. Dunque, questa coppia, come dicevo, è una coppia che mi è stata regalata da un collega dell'Università di Campinas, che è un grande collezionista di fumetti, il professor Giorgio Basilici dell'Istituto di Geosciencias. Io così, durante una riunione di departimento in cui un po' tutti si annoiavano, lui mi fece questo regalo, è stato molto simpatico, io non lo conoscevo e quindi è stato molto carino dalla parte sua. Bene, Guido, vi do anche il contesto di lettura, come mi è arrivato questo testo, perché non essendo né esperta di fumetti, né di Dante, e come si spiega la mia partecipazione in questo incontro. Comunque, è un'opportunità di conoscere e di presentare anche al pubblico questa curiosità. Di conoscere, appunto, Guido Martina, che non so se è noto in Brasile, ma che è stato per alcuni anni l'unico sceneggiatore delle storie Disney in Italia. Guido Martino, Guido Martina, che è torinese, era torinese, nato nel 1916, si era laureato in lettere e filosofia, da come se pare su insistenza dal padre, perché lui voleva fare l'ingegnere. Poi lavora anche come giornalista, come insegnante, e anche lì pare che questo lavoro non gli piacesse. Dunque, si è messo in contatto con una società cinematografica italiana, la Futurista Film, occupandosi allora di regia e sceneggiatura. Poi viene invitato dal metro Goldenmeyer e la Gamon, che lo incarica di fare un documentario sulla legione straniera in Algeria. E allora si trasferisce a Parigi per alcuni anni. Poi quando torna scrive già insieme a Angelo Violetto, che è il disegnatore, dei canovaci per una nota trasmissione radiofonica, i quattro moschettieri, con le mosse dal romanzo di Alessandre Dumas. E lì è cominciata la carriera di fare parodie, è lì che è cominciato a fare le parodie su tutto ciò che succedeva in quel momento. Poi quando scoppia la guerra invece viene chiamato richiamato come ufficiale di cavaleria in Libia dove viene fatto prigioniere dagli inglesi e dopo l'armistizio del 43 viene spostato in Polonia e poi deportato in Austria in un campo di concentramento. Dopo la liberazione ritorna a casa e vive un periodo di grande difficoltà economica nonostante questo riesce a pubblicare un romanzo incentrato sulla esperienza della guerra. E in questo periodo comincia a collaborare con la Montadore facendo le traduzioni all'inizio le traduzioni Disney ma il professore come era affettuosamente chiamato dai colleghi in quarant'anni di lavoro ha fatto niente meno che 1200 storie. È scomparso nel 91 e questa pubblicazione esce appunto nel 92. L'inferno di Topolino è così impreziosita dalle terzine e rimanate dalla sua genialità spesso ironica ma a tratte anche molto crudelle. Poi dico anche due parole su Angelo Violetto che magari voi conoscete bene io non conosco abbastanza ma so che è molto noto in Italia sul lavoro come vignettista umorista che ha lavorato per parecchio tempo alla stampa grandissimo illustratore ma che solo sporadicamente ha fatto fumetti. Nel 39 la Mondadore gli propone disegnare alcune storie di Guido Martina la prima fu Topolino e il Cobra Bianco e poi Topolino e i Grigli Atomici e successivamente l'Inferno del Topolino fatto tra 1949 e 1950. Dunque ora vi invito a leggere con me qualche pezzo che pare sia interessante vedere delle immagini faccio la presentazione magari tolgo la mia la mia immagine perché così si si carica meno il sistema un attimo solo sono un pochino imbranata ecco qua si vede bene si 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 dunque vediamo come Topolino si è trovato in questa avventura come comincia questa storia che trovo stupenda e dunque eccola qua provo a ingrandire un po' sì ecco qua dunque correva l'ano del tale dei tale di tale aspettate che torgo la mia camera eh perché così l'inizio correva l'ano dei tale di tale e l'orologio dell'attore suonava le dieci battendo venti rintocchi perché era balbuziente in quel momento Topolino e Pippo mietevano applausi recitando una grande commedia anzi una divina commedia nella quale Topolino faceva la parte di Dante niente meno e Pippo naturalmente faceva Virgilio niente poppo di meno e quindi uscimo a rivedere le stelle arma virunque cano è un'ingiustizia tu canti le stelle ed io devo cantare i cani bravo bis bene bene ma il successo di Topolino fa venire l'etterizia a gamba di legno e al suo sinistro compare Abdul il celebre ipinozzatore di Belucistan per le tripe di Satana non riusciamo non siamo riusciti a farle far fiasco non breguubardi padrone io li agomodo i per le feste può fare abracadabra uscirete uscirebbe mai più di quelle le vespi mai più u egosun rosa rosa il maleficio di Abdul fa immediatamente effetto e Topolino continua anche nella vita la finzione del palcoscenico e credono di essere realmente Dante e Virgilio ciao Topolino sei stato grande chi è qui sei è una donna o una femmina femmina della prima declinazione tanto gentile e tanto onesta pare ma Topolino perché parli così la comedia è finita oh Beatrice ancora non è finita quella comedia che era incominciata nel mezzo del camin di nostra vita Beatrice a me tu sei pazzo da legare io sono pa io sono pe io sono pi io sono poeta e io chi sono oh cielo chi sono io insolenti prendetti questo la tua carezza fa vedere le stelle ah quanto a dire quale era la cosa e quanto era e cosa dura al malefico influsso non abbandona Topolino e Pippo che continuano a credersi i due protagonisti della divina commedia però trovano che questa incarnazione è bella ma scomoda caspiterina caspiterina ma chi fu quel Dante per cui dobbiamo soffrire tanti martiri andiamo a consultare sui papiri della biblioteca circolante entrambi si immergono nella lettura ma poco dopo Topolino cede al sono mentre Pippo resiste ancora un po' io sento morire dal sono e il sogno di morire e così la magia continua ma che cosa accadrà Topolino e Pippo ora che sono veramente nell'inferno in Irano arrostiti o gelati e così questa introduzione mi pare che valeva la pena leggerela con voi che è stupenda e parla di per sé no? poi la prima pagina già nel canto secondo questo punto particolare attenzione perché mi pare stupendo che Virgilio scenda in bicicletta per incontrare Topolino faccio la lettura come nel primo canto vede a dire in una selva oscura mi trovai che nel pensiero mi farà brividire qui vi sospiri pianti ed alti guai parole dire suon di man con quelli sì che pareva ad essere un travai nel quale il passegger vede le stelle impero che viene compresso al punto che dalle falci gli escono le budelle e così terrorizzato che vi aiuto aiuto a me alzai lo sguardo e giuso dalla vetta vi dico la rincorsa rata e folle un palco dall'alve in bicicletta e qui faccio notare i registri contrastanti dissonanti tra i dialoghi disegni e le terzine ovviamente che potenzializzano l'effetto d'umore d'umorismo e di ironia e quindi si legge eccoti gagliofo sei venuto finalmente e giù si legge tosto che inanzi a me fermarsi volle con parolette dolce e faccia lietta gridandomi benvenuto a questo colle tu chi sei e che cosa vuoi da me che cosa voglio che cosa voglio portarti all'inferno io sono matto pipo e son poeta or per l'inferno ce ne andremo a spasso verso una scura e dolorosa meta noi siamo qui per sbaglio e dobbiamo cercare l'uscita e chi aprà la porta laggiù poi preghiamo satanasso a ciò che sia con noi tanto cortesi da farci uscire dal doloroso passo e quindi ora passo invece al canto quarto che ho intitolato la vendetta degli scolari che ce ne sarebbero tanti da vedere però così con il tempo breve mi fermo su questa immagine in cui si vede giustamente la vendetta di questi scolari sono quelle bestace vengono vengono chi fa centro vince il diploma liceale sono le scienze e le letterature sospesi per le spalle sono i tetti e intorno si raduna un'infinita un'infinita schiera di riverenti giovinetti qui spesso una gran voce viene udita onorata onorata il signor della favella tre palle un soldo inizia la partita io io mi dedico io mi dedico alla computisteria ed io mi dedico all'onorata di senofonte a tali vinido e a giocare a pelle un coloro in fila si dispone a palla arrotolando la pagella e questa scena che trovo stupenda questa è per i dialoghi di Platone e questa è per congiura di Catalina e chi bersaglia Ovidio e Platone ma soprattutto quella scolaresca colpisce nel sedere Cicerone vorrei dire vorrei dire due parole a quella vecchiaccia che sembra Eulalia favella inquadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla radice del dente di mia nonna poeta io cominciai non ti rincresca e svelarmi chi sia mai quella frenetica vecchia che oscilla in guisa si grotesca e prendono l'aritmetica è peggio della peste bubonica mettetele mettetele la camicia di forza io sono la regina della tavola pittagorica allora mi rispose con bisbettica voce la strega che giammai si siede e bonfocchiò io sono l'aritmetica hai in testa il bernoccolo della matematica e sei proprio tagliata per fare i conti a basso talete è il teorema di Euclide ebbi per padre il siculo Archimede che mi nutri con succo di radici or son punita qui come si vede tutti i ragazzi a me amici qui nell'inferno con le mani pronte fa la vendetta dei miei malefici Cristina si scusa il tempo c'hai si hai c'hai ancora un po' perché poi dobbiamo si finisco scusami no fai bene a dirmelo perché io mi entusiasmo per me la cosa più bella è leggere lo so e poi avremo comunque un po' di spazio per le domande va bene va bene dunque sì passo all'ultima alla chiusura salto un po' vado al canto dicesettesimo che è l'incontro con Papperino e Ugolino che però fa l'arbitro di calcio vi faccio vedere qualche immagine e poi una vignetta delle ultime pagine che è riservata all'autocitazione qui Martina e Bielotti Bielotto i due autori sono colpevoli di aver parodiato e quindi tradito il capolavoro dantesco e quindi sono incappucciati e legati a un pallo in un girone infernale ma poi vengono perdonati vi faccio vedere perché no ho l'immagine vengono perdonati da Dante trovo stupenda questa questa immagine ecco qui trovano Paperino e la sua doppia personalità Topolino ti voglio bruciare vivo carissimo Topolino lascia che ti baci chi è quella bestia mi sembra ma sì è Paperino ecco questo incontro poi il peccato viene spento con uno stintore e Paperino che li invita a prendere un gelato per me mi prese poi tutto beato ed esclamando crepi l'avarizia mi disse andiamo a prendere il gelato e ci vedono il no con cui inizia il cerchio dove tutti i traditori sono condotti all'ultima giustizia poi c'è questo fantastico incontro con Ugolino che fa l'arbitro e ecco l'incontro con Dante e due autori incappucciati legati a questo palo io ho fatto i disegni confessate confessate in qual modo mi avete tradito io ho scritto i versi imitando la divina comedia e in ansia l'or starrito l'alighieri che li punzecchia con la pena in resta in punizione dei lor peccati veri io lo fermai dicevo dove l'arresta su questi due tappini io so che l'intenzione l'or fu onesta non senti come gridano evviva sono i lettori di Topolino ecco e così viene perdonato Dante perdona gli autori ascolta ascolta tutti quei ragazzi non li senti gridare che davvero si sono divertiti come pazzi allora Dante racquettò il suo fiero di sdegno e disse al triste scrittorello va porta il mio messaggio al mondo intero e così per questa volta andate pure oh patria mia solleva il capo affranto sorride ancora oh bella fra le belle oh madre delle madri asciuga il pianto il cielo che ti accende di fiamme splendide e rischiarà a riferarti ancora la prima sì che tu possa rivedere le stelle Dio ti protegga Italia così sia ecco così finisco questa presentazione grazie grazie Regina sono una lettura insieme la trovo molto simpatica molto bella mi sono molto divertita leggendo pensando a voi Regina vuoi passare la parola al prossimo che mi pare sia Caroline Caroline sì ora passo la parola a Caroline grazie buongiorno a tutti buongiorno ascoltate mi sì sì grazie bom eu sou Caroline sou estudante de letras habilitação portuguesa italiana da faculdade de letras filosofia e ciências humanas sou orientanda da professora Cecilia e per questo web seminario vim apresentare il mio progetto di lavoro di graduazione che è sobre a divina comedia per as crianças o la divina comedia ilustrata una nuova leitura per i bambini io non sei come che faccio perché sta tendo la presentazione da tela e grazie 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 mille leo e e assim o objetivo desse projeto de trabalho de graduação era fazer uma leitura visual da divina comédia e em especial o público infantil e juvenil mas nada que também impede que o público adulto também se interesse e através dessa construção de uma narrativa visual eu assim não era não é a intenção de modificar totalmente divina comedia mas é pensando em como trazer essa leitura totalmente conhecida mundialmente assim como outras obras clássicas tais como as obras do Vitor Hugo a obra Fausto e outros e também autores italianos eu pensei nessa nesse propósito de fazer as ilustrações nessa primeira parte eu apenas consegui fazer o canto um do inferno da divina comédia a intenção é fazer todas as partes da divina no entanto não é um trabalho simples e não é um trabalho fácil é um trabalho que de anos né porque como sou eu apenas que estou ilustrando as passagens então é um trabalho de é um trabalho duro é um trabalho complicado para uma só pessoa e com o auxílio da professora Setia ela foi me orientando assim nas partes assim que fossem mais assim interessantes antes de ilustrar para as crianças que fossem mais interessantes e já despertassem a curiosidade despertassem a leitura e a interpretação ao mesmo tempo do lado dessas ilustrações estaria não só apenas a versão original da divina comédia mas haveria uma tradução e lançaria depois perguntas de dessas imagens tipo em que onde está ocorrendo quem é o personagem e quais são as figuras que estão representando nessas ilustrações aí no total do canto um foram oito ilustrações mas eu quis apenas selecionar três cujas porque nessas três imagens que eu selecionei foi pensando nas figuras alegóricas do canto um que nesse caso são a onça o leão e a loba né e se você voltar um pouquinho antes Léo ainda gostaria de falar um pouquinho isso nessa primeira ilustração da esquerda para a direita vocês podem ver a primeira figura alegórica que o Dante encontra na mezzo della mezzo della fioresta oscura a onça que para muitos leitores e interpretações e pesquisas a onça é a figura alegórica da luxúria ela seria a representação da luxúria né e um dos obstáculos na vida do Dante aí ele encontra e é o trecho o trecho selecionado é ed eco quase al cominciar de alerta una onça leggera e presta moto que de pelo maculato era coberta e não me se partia dinante ao voto ou seja eis que ao começar a subida uma onça muito ágil e ligeira cujo pelo pintado era envolvida não se fugia de minha dianteira aí depois dessa primeira figura alegórica a próxima seria a figura do leão que seria eu não me lembro muito bem mas seria a figura alegórica da riqueza da da avareza não da avareza da loba desculpem mas é do poder do poder que é a figura soberana do leão né e nessa ilustração é o Dante fala que a fera era indomável furiosa mas eu pensei muito quando a gente também está diante de um animal selvagem e o leão propriamente ele não é um na realidade assim tão assustador ele é super tranquilo então na hora de ilustrar eu pensei neste neste caráter do leão de sossegado tranquilo e ao mesmo tempo empoderador mas a passagem do canto 1 é mas não sei que paura não me desse la vista que me apave de um leone com este pare que contra me venesse com a testa alta e com da beosa fama mas não sei que medo não me deste a visão que me apareceu de um leão este parecia que contra mim investe com a cabeça seguida e uma fome furiosa talvez essa essa representação feita por mim seja uma interpretação minha talvez para outros seja como a própria visão do Dante quando viu a figura diante da sua frente mas eu pensei numa figura mais tranquila e soberana ao mesmo tempo aí a próxima por favor isso tem uma ilustração da loba mas essa aqui eu escolhi especificamente porque ela é o momento de transição em que a loba ataca o Dante e aí a figura da sombra aparece para ajudá-lo que no primeiro momento nós não sabemos quem é mas sabemos assim lógico quem já leu é o Vigílio mas pensando para as crianças é um mistério você não sabe quem é essa sombra a silhueta de uma sombra que está no segundo plano da imagem enquanto que no primeiro plano nós vemos a loba que é a figura alegórica sim da avareza atacando o poeta aí essa parte é tal me ao meu encontro pouco a pouco me atacou até onde o sol resplandecia ao mesmo tempo ao cair do vale tampouco diante dos meus olhos foi me oferecido alguém de aspecto silencioso e obscuro então essas foram as três ilustrações que escolhi para apresentar neste seminário da semana da língua italiana fazem parte do projeto de graduação que ainda pretendo continuar levando firme e ao mesmo tempo essas escolhas das figuras foi a intenção também de mostrar o tema da Mice que ainda estou planejando fazer que será a leitura das figuras alegóricas e como elas são representadas tanto na leitura escrita como também na representação visual seja em pinturas seja em esculturas ou até mesmo em ilustrações então eu encerro aqui e agora você tira qual é a pessoa que virá depois de me chamar é o Paulo de Tarso se não estou enganada você me engana não ah sim ah sim é o Paulo de Tarso prego graças agora muito obrigado pelo convite bom dia a todos queria agradecer especialmente a Cecília que me pegou no meio do caminho no meio de uma selva escura eu estou desenvolvendo meu nome é Paulo de Tarso como já falou Caroline eu estou desenvolvendo um trabalho que deverá ser publicado no site digital Dante da Universidade de Colômbia eu procurei aí representar e tentar mostrar um pouco da viagem de Dante todo mundo gosta de viajar e quem viaja não é a mesma pessoa que volta da mesma forma que quem faz a viagem de Dante quem lê Dante não retorna a ser a mesma pessoa de antes a viagem de Dante é algo excepcional na literatura mundial e o meu trabalho no doutorado é procurar representar essa viagem em forma de vídeo né então eu vou restringir a minha fala a isso aqui e vou pedir para o Leonardo apresentar o vídeo esse vídeo está em processo ainda e vocês vão poder olhar e depois se quiserem entrar em contato fiquem à vontade tá bom Leonardo pode passar tchau 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 então é esse é um trabalho que está em processo ainda e a gente vai levar ainda um bom tempo produzindo ajustando esse trabalho para finalmente ele ser inserido no digital Dante muito obrigado pela audição de vocês aí muito obrigada e agora e agora eu vou chamar o professor Cláudio Canato olá olá a todos bom dia a todos parabéns a todos os trabalhos estão muito bonitos um melhor que o outro incrível essa visão tridimensional Paulo muito bom as ilustrações são lindas também Caroline parabéns muito obrigado Cecília pela participação por essa chance de poder falar um pouco do trabalho e mostrar um pouco do meu trabalho há uns anos atrás no centenário do colégio Dante Aligueira eu fui chamado para desenvolver um mural sobre a divina comédia a proposta foi minha enfim e eu tive que me adaptar à escola por conta de que tem até uma história engraçada eu apresentei um projeto que previa fazer 30 murais eu ia tomar conta do prédio inteiro e daí eu pedi um prazo de 25 anos e o presidente claro deu risada não falou não mas falou olha a gente vai fazer a primeira parede pode começar e tudo mais para o centenário e eu pensei que eu tinha só essa primeira parede para pintar então eu tentei resumir ao máximo possível e essa acho que foi a primeira dificuldade do colégio de pintar esse mural que foi o que deixar de fora o que tirar é muito difícil cortar alguma coisa da divina comédia e resolver espacialmente também eu estava dizendo com o Paulo um pouquinho antes eu tive uma parede plana para resumir um 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 inferno que era cônico se não é uma coisa uma coisa difícil de fazer então eu tomei algumas liberdades né embora tenha sido bastante fiel ao texto de Dante eu tomei algumas liberdades como por exemplo escolher um único um único círculo e colocar nesse círculo um pouquinho um representante de cada outros círculos do inferno aqui nessa primeira imagem a gente vê esse é meu primeiro mural a gente vê a descida de Dante lá em cima ele vir de ilho já e ele a cena principal é localizada no rio no rio Flegetonte aquele rio de sangue mas se vê um pouquinho de cada de cada um dos círculos se vê os hipócritas o rei Minos lá atrás o cérebro e aqui em cima o Paulo da Francesca o Bertrand de Born enfim tem um representante quase de cada de cada círculo mais tarde eu vim a fazer um outro painel um outro mural da Divina Comédia e eu consegui colocar coisas que não estão nesse que um complementa o outro eu cheguei a fazer três murais da Divina Comédia no Colégio Dante somando tudo da quase 90 metros quadrados de pintura dizem alguns ser uma das maiores talvez a maior Divina Comédia pintada isso eu não tenho certeza mas a verdade é que foi um esforço muito grande que eu realizei ao longo de três anos e por se tratar de uma escola foi muito interessante fazer porque teve todo um pensamento na construção desse projeto um pensamento assim didático de como passar como aproximar a criança de um universo tão denso de um tema tão difícil e ao mesmo tempo eu não queria amenizar nada do que eu tinha lido mas não tem muito outro não tem um jeito delicado de se passar certas coisas principalmente do inferno mas para minha surpresa a visita das crianças começou muito cedo e eu vi que esse inferno não assustava tanto assim e a gente começou a bater papo e fazia desenhos ali junto com as crianças durante o processo e e foi uma troca muito grande porque eu vi que o interesse deles por tudo aquilo e eu comecei a acrescentar figuras desse universo mitológico que o Dante traz que o Dante mistura e que eles gostam muito então eu comecei a trazer com pequenos nesses pequenos detalhes eu comecei a aproximar a obra deles e o que é interessante de tudo isso é que desse dia a dia eu acho que esse dia a dia esse contato com a criançada com a pintura enriquece enriqueceu o colégio e mudou o dia a dia do colégio o mural ele ganhou a dimensão de uma ele virou uma ferramenta de educação disponível a disposição de todos os professores e todas as crianças todos os professores começaram a usar o mural como essa ferramenta para discutir diversos assuntos e isso acho que foi para mim o aspecto mais rico do meu trabalho eu descobri ali no Dante que a pintura podia ter outra dimensão e desse dia a dia também nasceu a possibilidade eu vou pedir para o Leonardo ir passando as fotos para o pessoal ver porque eu acho que eu não vou entrar no mérito dos detalhes porque se não eu vou falar muito eu não tenho tempo mas aqui por exemplo é uma cena do paraíso terrestre o Dante está tomando a água do rio Létis ali ele recebe as virtudes nesse painel tem essas três mulheres ao lado são as três virtudes teologais a fé, esperança e a caridade aqui já em outro mural aqui é uma outra cena do inferno são as cenas dos gigantes aqui representa um dos círculos ali o pior dos círculos da traição dos traidores esses gigantes se revoltaram traíram Zeus enfim com exceção desse mais claro aqui do centro que é Anteu que ajuda Dante a descer enfim todas essas cenas foram acompanhadas pela criançada e o que eu queria dizer e convidar a todos quem nunca foi ao Dante pode ir aberto ao público e é só marcar comigo também eu posso recebê-los lá vou ter muito prazer mas o que um dos frutos desses murais e desse dia a dia desse diálogo constante com pais e alunos nasceu também a minha a ideia e a vontade de fazer uma coisa para criança e eu já vinha desenvolvendo uma coleção de livros de história da arte para criança que eu escrevi e ilustrei e eu comecei a fazer eu pensei em fazer e visitar o primeiro o primeiro autor assim o primeiro artista da literatura e foi Dante o escolhido evidente e eu fiz não uma divina comédia para criança eu fiz um trabalho simbólico e que tenta explicar para tentar dar um significado mostrar o significado da viagem é uma introdução apenas a divina comédia aí está essa essa eu usei como a capa dos livros e o que é interessante é que esse livro veio do meu processo de construção do mural eu criei uma história baseada no meu processo de criação então para criar o meu mural eu visitei eu fui atrás de referências e que essas referências eu fui buscar por exemplo na arte bizantina em Ravena descobri coisas que para mim foram muito interessantes e que eu trouxe para o meu mural e paralelo a isso eu pensei que em fazer uma história eu construí uma história como se essas referências tivessem sido vistas e usadas por Dante pelo próprio Dante como esse labirinto que a gente está vendo na Basílica de San Vitale para mim é muito nítido pelo menos para mim eu não posso falar que o Dante viu isso e pensou a mesma coisa mas isso ajuda muito visualmente a se pensar nos círculos concêntricos tanto no esquema do inferno como do purgatório e do próprio céu e a própria simbólica o significado de se percorrer um labirinto tem muita relação com o significado da viagem que é essa purificação então eu usei isso como o principal da história aqui nessa cena a gente está vendo o menino imaginando o labirinto afundando formando o inferno subindo formando o monte purgatório e esses ladrilhos voando e formando os céus do paraíso aqui eu reproduzi uma parte da Basílica também onde a gente pode ver uma das figuras que Dante usou que é o imperador Justiniano então eu fiz na verdade uma história baseada no processo que foi meu de construção e que talvez tenha ajudado o Dante porque é sabido que ele visitava esses lugares porque ele morava muito perto aí nesse céu eu ao lado no mesmo complexo de São Vitale ao lado tem o mausoléu de Gala Plastilha e ali eu encontrei esse céu de estrelas que para mim é uma imagem muito clara da Divina Comédia você vê a cruz ali no centro e os quatro evangelistas eu fiz no mural do Dante uma alegoria da igreja que usa esses mesmos símbolos então uma coisa acho que complementa a outra e uma coisa ajudou a outra na verdade esse livro é um livro simples despretencioso e que a única intenção é jogar essa sementinha e despertar essa vontade das crianças de quem sabe mais tarde entrar na obra de Dante eu tenho feito esse tipo de trabalho a Cecília Sabe ela me acompanha e eu tenho abordado grandes temas da literatura clássica eu fiquei durante anos estudando a Divina Comédia e agora recentemente fiz a obra de Cervantes fiz um painel muito grande também do Don Quixote e vou levar isso para a criançada também é muito bom foi muito enriquecedor para mim estar dentro do colégio e poder usar o meu trabalho a minha pintura para enriquecer a vida de todo mundo ali eu acho que não sei se tem mais alguma imagem aí essa é a última eu acho Cecília eu encerro aqui minha explicação de tudo e estou aberta a perguntas se alguém tiver muito obrigado muito obrigada para todo mundo e ali constam com mais precisão os nomes e os cargos de todo mundo que acabamos não dizendo muito porque obviamente como a gente fala dialoga mas pelo meio aí algumas coisas então mas assim como falei a professora Regina da Unicamp a Carolina que faz conosco na USP em graduação prestes a fazer posta o meu professor Paulo de Tarso que é arquiteto e faz também doutorado e o Cláudio Canato que é artista professor de artes plásticas artista lá do colégio Dante Alighieri e o nosso Leonardo que é na posta italiana Nicola Leto enfim agora tem espaço para as perguntas estou vendo a Doris Doris um beijo eu vi também a Irene eu vi várias pessoas aparecendo que eu não cumprimentei antes mas todo mundo está cumprimentado tem espaço para perguntas até uns 15 minutos se vocês querem eu vou falar uma coisa Carnato eu assim é verdade o seu livrinho belíssimo livro que eu tenho sobre Dante tem de fato a imagem de Dante criança com Beatrice remetendo ao começo mas são poucos de fato então o seu sim tem de fato boche uma ilustração de página dupla o encontro dele com ela na Ponte Vecchio como duas crianças sim 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 poético sim 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 mas é fascinante é um universo um universo fascinante o dele sim perguntas algumas observações vocês conheciam por exemplo o esse afresco que o Canato que está no colégio do Antalighieri só que o colégio do Antalighieri agora está fechado mas na verdade como o Canato disse pode até se visitar pode se visitar se quiserem também antes de ver alguma coisa dar uma sapeada no meu site o site é canato.com.br e é só entrar em murais ali vocês vão ver um monte de fotos a mais do processo inclusive que o processo foi muito rico né mas o resultado assim foi extraordinário eu acho com as crianças né essa coisa de mexeu com a dinâmica da escola desculpa falar de novo mas isso aconteceu no Dante primeiro e agora no Miguel mudou essa dinâmica a presença de uma obra grande ali né e que todo mundo pôde acompanhar quer dizer os pais tiveram que ler a Divina Comédia pra explicar pros filhos certas passagens o colégio fez todo mundo ler uma pequena adaptação também pra todo mundo poder acompanhar então isso tudo gerou um movimento muito rico lá dentro né isso que foi gostoso sim sim certo e também eu tive o tempo pra ver o Don Quixote também né que você fez sim sim maravilhoso também e agora as perguntas e eu tenho uma pergunta que eu posso escutar uma pergunta Prendi, guardi, 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 guardi. e poi il canato risponde, ma credo che deve essere... Doris, accende il tuo micrófono, adesso penso che... Oi, stanno me ovinendo? Io stavo nel computatore che non c'è il som, che è più grande per vedere le immagini, quindi ho dovuto vedere se hai progetti per il Dante per 2021? E se il Dante deve fare più di altri murali? E se l'ho pubblicato anche o Cervantes come o libro? Ciao Doris, come va? Tutto bene? Tutto bene. Io ho un progetto, sì, io mi piacere molto di pinta una altra parete che sarebbe un impirio, che è stata stata, già stata stata creata, e, chi sape, non posso convencer la diretoria, io credo che hanno interesse per cercare questa cosa della Divina Comèdia. O Don Quixote io ancora non pubblicato, ma è in andamento, perché è una cosa molto gostosa, molto ingrazzata, e per la criança c'è tutto a ver, io vorrei fare sì, e il va a essere il prossimo libro di letteratura della mia collezione di storia d'arte. Ok? Grazie. Sì. 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 per mostrare, io credo che dà sì, solo un minuto, solo un minuto che io voglio prendere qui. Aproveito a Carolina per dire che poi potremmo tentare aggiungere la bibliografia, pergunto, per fare... ... 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 se c'è un questionamento che possa surgire, e la idea sarebbe aggiungere tutto organicamente in un sito, in un repository, diciamo, organizzato, che ci aiuti anche a ampliare i nostri casi, i esempi di ricezione di tanta letteratura italiana nel Brasile. Quindi, aiuti a fare questo. L'ogico che a noi, come facciamo questo autarquicamente, quindi abbiamo un po' perché io non... Anche di cinque mesi, non avevo mai fatto nulla di questo, non avevo mai fatto nulla, ma è un bello apprendizzo, io sto gustando questa cosa. Carolina, si, a quadrià, levanta un po' perché a gente... questa è la prima pagina, la capa... Dona Morte, perché a Carolina scrivei i testi anche, si può... Levanta un po' la quadrino da moda e da moda, da Andrina, por Andrina, perché è un nome... è un pseudonimo, un pseudonimo artístico, che è justamente per causa del trazzo. È un trazzo che già desenhava quando criança, quindi resolvi trazer per il contemporaneo. e poi, come si, con la moda, la morte... e a morte tá lá matando um boizinho com a foice aí nas próximas páginas ela puxa a morte de supetão e a foice cai no boi e o boi morre e aí começa o diálogo e aí foi uma espécie de adaptação, neste caso que eu tive que encurtar tive que tirar muitas coisas e muitos comentários importantes que o Leopard faz dentro dessa poética mas foi um jeito pra não só apenas ilustrar, mas também mostrar um pouco também a literatura italiana numa versão bem brasileira que é a versão da quadrilha versão da cultura nordestina aí essa parte é uma parte que a gente consegue enxergar dentro do olho da morte as coisas mais sim, a gente olha bem profundamente no olho da morte a miséria os sentimentos mais profundos do ser humano a relação a vida e a morte e como isso tá atrelado à moda e aí no final as duas estão dançando com os esqueletos muito bonito mas aí Carolina então manda e a Carolina também fez também outros livrinhos que ela já fez ilustrações mas então esse enfim vamos aproveitar essa ocasião la Settimana della Língua os festejos para Dante já que a gente faz realmente fazemos por paixão todos então vamos aproveitar pra juntar o material de circulação que possa circular a partir do grupo de nós para também para fora certo? Então com a ajuda de todo mundo tem mais alguma pergunta? só encaminhando para encerrar professora posso só fazer um comentário rapidinho? sim então enquanto o pessoal pensa nas perguntas né na quinta-feira então nós temos retomando aquilo que o professor Nicola disse a conferência com o professor Júlio Ferroni depois na sexta-feira a nossa terceira conferência sobre a dentística na América Latina né e lembrando que o link ele é enviado no dia anterior hoje como nós tivemos aquele problema eu enviei de manhã né mas eu vou tentar manter o padrão enviar no dia anterior tá certo? obrigada Leonardo e se não tiver outras perguntas então eu encerro esse primeiro encontro da Semana da Língua 2020 Cintilla tem uma pergunta que eu vi aqui se eu puder responder olha o livro é diretamente comigo tem alguns pontos na cidade principalmente lojas de material de pintura que estão vendendo a minha coleção mas se quiser você pode falar diretamente comigo pelo site ou pelo meu telefone se eu puder dar 99608 6777 quem tiver interesse na coleção de livros tá bom? obrigado é 99608 6777 ok? isso obrigado Leonardo obrigado então obrigada a todo mundo obrigada Leonardo mais uma vez a tutti ringrazio a tutti partecipanti e te vediamo espero giovedì all'incontro con Giulio Ferroni che eu e Doris receveremo per uma chiacchierata su questo bellissimo livro però ve lo faccio vedere já que ci siamo l'Itala di Dante viaggio nel paese della primordia che é appena uscito e quindi va bene spero che potremo chiacchierare abbiamo già tutto é disponível anche nel formato kingdom questo libro come tu sai sono signor mi devo riaggiornare mi aggiorno continuamente comunque é caduto da quanto era grosso ma in realtà é leggeríssimo si legge benissimo e bene allora a giovedì e poi venerdì concluderemo con una tavola sulla tantistica gli suoi su Dante in America Latina che ce ne sono tanti ci sono delle tradizioni molto ho visto prima il mio collega Fernando Iparra del Messico ci sono delle tradizioni in vari paesi sudamericani molto forti degli studi stanti grazie e a presto allora a presto ciao 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 a presto ciao 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 Grazie. Grazie.